Per i cittadini è un taglio insensato degli alberi, per il comune di Perugia si chiama invece riqualificazione. Peccato che gli alberi che l'amministrazione ha piantato in sostituzione dei nove pini abbattuti in piena salute, si siano seccati tutti ancora prima di crescere. I cittadini del Bellocchio Madonna Alta protestano ancora contro questa politica di riqualificazione del verde municipale. Il comitato Gimko Biloba, che da tempo si batte per una manutenzione piuttosto che per l'abbattimento, torna sul luogo del delitto in via Martiri dei Lager. Vogliamo chiedere innanzitutto la sostituzione di questi alberi. L'abbiamo già fatto tramite email ma non ci hanno risposto. E poi soprattutto una cosa più a lungo termine, cioè una programmazione di una manutenzione costante e duratura degli alberi che verranno introdotti e messi a dimora nel comune di Perugia. Perché comunque è inutile mettere delle piante e poi abbandonarle.